In tutta Italia, ma soprattutto nel nord, sono numerose le notizie che riguardano le cattedre ancora scoperte nelle scuole e il caos delle supplenze. Nonostante la campanella di inizio anno sia già suonata da tempo, secondo la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL sono state 33.000 le assegnazioni per le cattedre a punto vuote su un totale di circa 66.000 emissioni in ruolo previste. La situazione più critica, come riporta Sole24, riguarda soprattutto le regioni settentrionali, dove tali assegnazioni si sono bloccate in media al 43%. Rendendo così obbligatorio in questi giorni il ricorso agli insegnanti supplenti con contatti a tempo determinato, con il rischio di sfiorare entro la fine dell'anno scolastico un totale di circa 108.000 supplenze complessive. Una situazione complice anche ad esempio i vuoti lasciati dai pensionamenti per quota 100, definita disastrosa dall'Associazione Nazionale Presidi, se alle cattedre ancora scoperte si aggiungono le carenze del personale non docente. Per ovviare l'emergenza nei prossimi giorni potrebbe essere varato un decreto che prevederebbe due concorsi. Grazie.